Ciao ragazzi, è finita la partita purtroppo 3-1 per l'Atalanta, siamo fuori anche dalla Coppa Italia, dopo il campionato siamo fuori anche dalla Coppa Italia quindi quest'anno probabilmente non vinceremo nulla, primo tempo vergognoso, abbiamo giocato malissimo, la nostra difesa è imbarazzante abbiamo regalato due gol all'Atalanta, il primo gol troppo spazio lasciato dalla nostra difesa a Zapata, il secondo gol regalato a Pessina dalla nostra difesa vergognosa, la nostra difesa è vergognosa, non si salva nessuno, Maximovic e Ramani sono vergognosi soprattutto Maximovic che è un giocatore di merda, un bidone, poi anche i terzini, Isai e Di Lorenzo sono scandalosi, anche Mario Rui comunque, ormai situazione critica, ormai sembrano che giocano contro Gattuso, sembrano rotti come l'anno scorso è successo con Ancerotti spero non succederà la stessa cosa, ma ormai Gattuso sembra che non è più l'allenatore del Napoli secondo tempo leggermente meglio, ma comunque ha giocato sempre meglio l'Atalanta, abbiamo segnato il 2-1 nel secondo tempo con Lozano Lozano è l'unico giocatore forte di questo Napoli, l'unico giocatore che io salvo e che quest'anno merita la maglia è l'unico giocatore che ci sta trascinando, diciamo, che sta facendo qualcosa, sta segnando perché tutti gli altri inesistenti anche oggi, insigne quasi inesistente, insigne da quando ha giocato Juve Napoli da quel rigore, insigne poco e nulla infatti anche oggi qualche tiro così però nulla, insigne zero Ozyman si è mangiato il gol del 2-2 comunque già sai che ha giocato perché è stato tre mesi fuori, diciamo, gli do questa attenuante passiamo un po' alle pagelle Ospina 6,5 forse poteva fare qualcosa di più sul terzo gol però comunque ci ha salvato in più volte, ha fatto qualche buona parata sul 2-1 forse sul terzo gol poteva uscire ma comunque è uno dei pochi che quest'anno si salva la difesa di Lorenzo, Maximovic, Ramani, Isai e Mario Rui, due tutti quanti due, scandalosi è una difesa che forse nemmeno in Serie B potrebbe giocare forse abbiamo la difesa peggiore di Serie A forse anche il giocatore del Crotone, la difesa del Crotone è migliore della nostra per come sta giocando adesso soprattutto Maximovic a cui gli do due meno Maximovic il voto più basso poi tutti gli altri due passiamo al centrocampo Zieliski 4 Zieliski sempre discontinuo giocato male oggi non mi è piaciuto Zieliski 4 poi Bagaioco 3,5 malissimo Bagaioco malissimo Bagaioco poi Elmas 4 anche lui non ha giocato bene Elmas non so anche lui è molto discontinuo fa una partita buona e 100 ne sbaglia poi Lozano 7 è l'unico che voglio premare che premiare il Ciacchi Lozano grazie a lui abbiamo aperto la partita e grazie a lui che siamo a galla diciamo perché quest'anno è il giocatore che ha segnato di più il giocatore che merita la maglia su da la maglia quindi per me Lozano quest'anno è il migliore del Napoli poi Insigne 4 male, male Insigne e secondo me si deve fare un po' di panchina Osiman gli voglio dare 5 solo per l'infortunio altrimenti chi avrebbe dato 4 gli do l'attenuante che è stato 3 mesi fuori e ancora non è in forma poi passiamo ai sostituti Dem 6 6 6 meno comunque ha dato quella palla a Osiman che poteva segnare il 2 a 2 anche lui è uno dei pochi che salvo e poi Lobotca e Petagna senza avuto Politano poi 5 e mezzo comunque così e così Politano dunque ragazzi che dire un altro obiettivo abbiamo fallito un altro obiettivo comunque la Coppa Italia potevamo vincerla per salvare la stagione ora la situazione è critica Gattuso come ho detto secondo me già non è più l'allenatore del Napoli perché comunque i giocatori secondo me non lo seguono più ha fatto un po' la fine di Angelotti non mi so dire dove andiamo a finire sabato dobbiamo giocare contro la Juve non so che dire dico solo forza Napoli sempre solo la maglia perché i giocatori del Napoli la maggior parte sono indegni che non meritano la nostra maglia forza Napoli sempre buonasera a tutti fatemi sapere la vostra qua sotto lasciate un like condividete commentate e noi ci vediamo in un prossimo video e noi ci vediamo Grazie a tutti.